La gestione del nostro patrimonio artistico, archeologico, culturale, già da qualche anno in maniera anticipata rispetto agli altri siti turistici, è stata in parte affidata ai privati. Mentre la tutela del patrimonio e dei beni culturali è rimasto nell'ambito dell'amministrazione regionale, altri servizi sono stati affidati ai privati. Questa collaborazione sinergica ha prodotto i suoi vantaggi sia nell'accoglienza sia nella royalty legata alla ristorazione e alla vendita dell'oggettistica. Si dicono così soddisfatti i privati cui, presto a quanto si dice, verranno anche affidati i grandi eventi che spesso hanno da sfondo la nostra splendida valle. Un primo accenno di questa nuova mansione dei privati l'abbiamo avuta in occasione della 66esima sagra del mandorlo in fiore, visto che una percentuale delle vendite e dell'ingresso alla valle è stata stanziata per finanziare in parte l'evento di apertura della Carmes primaverile, che ha fatto aggiudicare alla nostra città il Guinness World Record della cubaita più lunga del mondo. Adesso gli addetti ai lavori sperano nell'instaurarsi di una vera e propria rete sinergica tra tutti gli operatori turistici, per sfruttare al meglio le bellezze che il nostro territorio ci offre, che è arrivato il momento di vedere come una vera e propria opportunità per noi agrigentini. Grazie a tutti.